Fides Montevarchi 48, Acea Virtus Siena 60, vince e convince la squadra di Siena di coach Andrea Spinello che continua a guidare a punteggio pieno la classifica del mini girone C di Serie C Gold Toscana 16-20 il primo quarto, 35-33 il secondo quarto, 36-45 il terzo quarto, 48-60 finisce la partita in evidenza per la Acea Virtus Siena senza dubbio Nepi che continua a essere sicuramente il testimone di questo inizio di campionato così sfavillante ma non è da meno Olleia, non è da meno Imbro 13 punti, Olleia 16 e la squadra in generale permette appunto anche l'inserimento dei giovani di quel progetto. Caro alla società, al presidente Bruttini, all'allenatore Spinello, entrano Berardi, Cannoni, Lazzari, Braccagni, Bovo, insomma una partita che dopo la vittoria consolida ancora l'inserimento di questi giovani nel vivo del campionato di Cigol. Per quanto riguarda Montevarchi, la buona prova di Provvidenza, più che buona, 27 saranno i suoi punti, 6 punti gialli e Provvidenza rappresenta sicuramente il miglior realizzatore per la squadra di Paludi, Orfana di Pisoni, 5 interessante che abbiamo visto a Arezzo giocare un'ottima partita con 16 punti, ieri mancava, la squadra deve ritrovare quanto di buono abbiamo visto anno scorso dove nella parte finale ha dimostrato effettivamente di essere una delle migliori squadre del campionato di Cigold. In attesa del prossimo turno auguriamo buon basket a tutti!